Il DAX registra nuovi massimi storici ma io ho chiuso nel frattempo in profitto il mio long su questo mercato, ho chiuso poi a costo lo short su sterlina dollaro e nel frattempo ho aperto un long sul petrolio. Quindi oggi appuntamento ricco, ricco di trades. Ben ritrovato con questa rubrica, io sono Damiano Zito, price action trader indipendente e ogni giovedì vado a condividere la mia esperienza con il diario di trading di un conto reale di 10.000 euro che ho aperto come fase esperenziale del percorso di accademia della price action che ho intrapreso qui in Airforex. Bene, prima di vedere i grafici, come di consueto faccio vedere il mio diario di trading, quindi operazioni diario di trading del mese di febbraio che mostra quattro operazioni, al momento solo quella del petrolio è l'operazione che ho in corso, quindi aperta e non chiusa. Ho queste tre operazioni euro, dax e sterlina e la situazione diciamo dell'economica dei trade è la seguente. Dopo il primo trade su euro appunto avevo questo short su sterlina e il long sul dax, long sul dax chiuso con 310,90 euro di profit ma con un overnight abbastanza importante. Per quanto riguarda invece la sterlina, dopo sette giorni e dopo un mercato che ormai stava dicendo tutt'altro, ho deciso di uscire e quindi rispetto al mio investimento iniziale ho deciso di chiudere con un costo inferiore. Nel frattempo invece sono long sul petrolio ma con uno stop un po' più ampio perché siamo in una situazione un pochino borderline ma interessante per quanto mi riguarda e quindi che ho deciso di tradare. Un'altra informazione, volevo effettivamente condividere con te il fatto che al momento per quanto riguarda questo mese, puoi vedere come con un conto 10.000 ho mosso un controvalore di circa 52.000 euro. Bene, allora, quindi passiamo, passo dal diario di trading ai grafici, questo è il grafico del dax, grafico che adesso possiamo vedere come è stamattina, oggi è il 27 febbraio, quindi mancano due giorni alla conclusione di questo mese, il mercato ha fatto nuovi massimi storici. Trade che è durato appunto 12 giorni, se hai visto, se segui questo canale avrai visto anche il trade di Arduino, abbiamo fatto un trade molto simile, stop leggermente diversi ma di pochi punti, lui ha incrementato su questi livelli, io ho incrementato leggermente più in alto praticamente il 20. Prezzi di carico piuttosto simili. Chiusura manuale che ho fatto nella giornata appunto del 22, quando eravamo ormai a 17.380 punti nel primo pomeriggio, ho deciso di incassare, quindi mi trovavo ormai all'interno della zona di presa profitto del mio progetto, e quindi ho deciso di chiudere manualmente e portare a casa questo trade. Come dicevo ho incrementato su una piccola dinamica a sei ore che c'è stata dopo questa pin bar di presa profitto, cioè non era una pin bar short, avevamo un mercato in questo caso, era appena uscito da una compressione e questa mi ricordava tra l'altro una dinamica che adesso posso anche farti vedere sul, sull'SMP me la sono segnata, e semplicemente diciamo un pattern che mi è ritornato alla mente studiando i mercati nel passato. Qui il mercato effettivamente stava appunto tornando proprio sull'area della compressione, su una parte alta, e la mattina del, cioè la giornata del 20, io dovrei avere, sì ho incrementato praticamente su queste zone, quindi dopo le 13 ho incrementato in zona 17.020. Sicuramente il mercato poteva andare un po' più giù, ero pronto anche a eventualmente a vedere questo, questo ritracciamento, ma avevo spostato uno stop, il mio stop a 17.700, 710, questo per mantenere, cioè mantenevo così il mio, il mio rischio, ma ormai, anche perché ormai diciamo il, se il mercato da qui mi tornava sostanzialmente qui giù, sotto i 16.800 punti, sinceramente questa sarebbe diventata una falsa rottura di questa zona, e quindi avrebbe completamente invalidato il mio progetto, e sarei uscito completamente dal, dal mercato. Quindi questa è la situazione. Prima di passare alla sterlina, volevo farti vedere una situazione che mi è venuta in mente sul passato di S&P, febbraio, no era gennaio 23, quindi 23 gennaio, gennaio 23, situazione un po' diversa, perché il mercato in realtà qui veniva da, eccolo qui, situazioni di minimi, quindi c'era, era una situazione completamente diversa, comunque veniva da una compressione, quindi una sorta di appunto accumulazione, che è sfociata al rialzo con una candela di pola, e ho già visto, insomma, in altri mercati, quando ci sono anche delle inversioni di trend nel breve, può succedere che appunto dopo una compressione c'è un aumento di vola, una prima candela di presa a profitto, come questa Pimbar, che poi nel giro di uno, due, tre giornate, ma due giornate, viene convalidata e poi subito recuperata. In qualche modo, anche se sul DAX, quindi questa, quindi se sul DAX andavamo su dei massimi storici, mi ha ricordato questa dinamica, che avevo visto appunto nel passato del S&P 500, mercati chiaramente diversi, ma in qualche modo correlati, quindi dei quali magari conosco un pochino meglio il carattere, lo sto imparando a conoscere meglio il carattere. Quindi, situazione che è appunto questa qui, qui c'era stata questa compressione, il mercato esce, presa di profitto, mantenimento e poi continuazione del long. Questo, diciamo, è quello che mi ha ricordato il DAX. Vedendolo. Bene, per quanto riguarda la sterlina, qui c'è stata una situazione di recupero. Io sono uscito il 22 febbraio, anche perché, guardando bene la situazione, anche di correlazione con Euro e Australia, già proprio durante il 20 e il 21, ma soprattutto il 21, questa tenuta con Euro e Australia a porte, insomma, non mi convinceva più, il mio trade era in atto ormai da sette giorni, quindi ho deciso di fare un'uscita. Rivedendolo qui, effettivamente, il mercato aveva comunque creato la rottura del pavimento 1,26 a 30 con questo movimento short, c'era stato il ritracciamento con questa bella falsa rottura, io ho tradato la debolezza su questa falsa rottura, 1,25, possiamo pure vederlo, comunque sotto questo minimo, che però è stato recuperato nel giro di due giorni. Era un minimo importante, perché era il minimo di questo, era l'ultimo minimo crescente di questo ritracciamento long dopo il movimento short, che il mercato quindi recupera, fa questo, e poi di nuovo fa questo, quindi è un ulteriore, se vogliamo, arrotondamento di questo minimo, che con questa inside bar, e poi la rottura al rialzo la mattina seguente, mi aveva fatto pensare che ormai era meglio incassare i 100 euro di costo di questa transazione e poi eventualmente rivalutare su ritorni short. Anche perché in quel momento, come in questo momento, il mercato stava ormai parlando un'altra lingua, non più a favore del dollaro americano. Per quanto riguarda poi invece l'ultimo trade di questo aggiornamento, è un trade che appunto ho in atto, questo trade sul petrolio, che ho inserito sempre il 22 febbraio, e che al momento appunto sto tenendo, viene diciamo dall'idea che avevo inizialmente, avevo un piano short, ma che effettivamente poi è fallita, adesso piano long short, e si sta costruendo una dinamica per me interessante, che potrebbe andare a rompere ormai questi massimi, questa dinamica short, e quindi potrebbe creare l'allungo. È una situazione un pochettino più delicata, perché se andiamo a vedere il settimanale, non c'è un vero e proprio trigger al momento proprio sul settimanale, c'è stato dopo questa pinbar un movimento, un mercato, questa è stata una pinbar reversa, il mercato è stato in congestione, c'è stato questo, come dire, questo sfogo rialzista, che poi è stato buttato giù, ma poi il mercato lo sta recuperando, quindi se vogliamo questa è un'invalidazione del movimento short. E' chiaro che qui, fino alla fine di gennaio, l'idea era appunto entrare con un sell stop su una conferma di questo trigger, ma non c'è stata. E tant'è vero che se noi andiamo a vedere cosa è successo sul daily, dopo il movimento short, questo è il movimento short settimanale, qui c'è stata appunto la convaglia del trigger, ma non c'è stata nessuna conferma trattabile con sell stop, ad esempio. Se vogliamo, è arrivata questa conferma qui, ma con un mercato breve in forza, che necessitava ulteriormente di una rottura e una conferma su sei ore prima di un ritorno ribassista. Anche qui, quindi qui è stato convalidato, il trigger short è recuperato. Qui è stata convalidata, se vogliamo, la conferma del trigger short convalidata è subito recuperata, il mercato mi sta dando l'idea che si sta costruendo per un ulteriore allungo, quindi nella figura, se lo vediamo bene, nella figura settimanale, per andare a prendersi almeno in zona 82. Quindi il mio progetto di trade prevede appunto uno stop in area 71, sotto questo minimo, una falsa rottura si è creata qui, lieve e che insomma in questo momento mi tiene in posizione. Andiamo a vedere un po' nel breve. La prima FTV sicuramente non era un FTV che mi dava l'idea di essere subito comprata o atteso. mi è piaciuta questa, il 21, questa tenuta, e l'ho acquistata, l'ho acquistata e appunto questo stop a 71, successivamente, dopo questa convalida, c'è stato questo recupero e adesso sembra tenere la zona di pavimento. La dinamica che sto osservando è la seguente. La dinamica che ha questo minimo massimo, lo tracciamo, ok, che è la dinamica appunto questo minimo e questo massimo che è su settimanale è molto interessante. Il mercato infatti dà questo minimo, questo minimo massimo, che è andato a fare la falsa rottura del livello di prezzo 70. Poi tiene con questa tail bar più inside e poi appunto è uscito da questa compressione. Settimana successiva prende il T2, crea questo trigger short in area pullback della gamba, non ce la fa scendere e quindi andare a prendersi i minimi più più bassi e va al rialzo. Quindi ritesta nuovamente questo questo T2, siamo ancora in area T1 e quindi sta consolidando qui in questa zona tra i 76 e i 78 e 80 o in realtà anche un po' più in basso. L'idea comunque è che si possa prendere profitto al più in area 82 a meno insomma di una costruzione ancora più più lineare, più pulita che può arrivare più in alto però chiaramente se dovesse nel giro di uno o due giorni fare la fiammata e arrivare a 82 molto probabilmente prendo profitto. Io come al solido non ho inserito adesso un limite quindi un ordine di target per chiudere automaticamente il trade quindi lo andrò poi eventualmente dovesse tornare appunto dovesse andare nella direzione del mio progetto di trade lo andrò un po' a gestire. Quindi questa situazione al momento sul mio conto di trading situazione che appunto vede questo long sul petrolio gli altri trade al momento ci sono conclusi vediamo oggi il 27 di febbraio se ci sarà qualcosa prima della chiusura del mese magari su le valute principali o sull'oro vediamo sono mercati che sto seguendo io nel frattempo ti ricordo di lasciare un video un commento a questo video un mi piace se il video ovviamente ti è piaciuto e se non l'hai già fatto di iscriverti al canale nel frattempo ti ringrazio ti saluto e ti auguro soprattutto buon trading grazie alla prossima ciao